Francesco Macri per noi rappresenta un punto di riferimento, un uomo con grandi valori e soprattutto con grandi competenze. Con la sua presidenza destra, che è sotto gli occhi di tutti, crediamo abbia dimostrato quello che è riuscito a fare. Un'azienda importante che però nel nostro territorio non era così conosciuta come lo è oggi, ma soprattutto una distribuzione di ricchezza nel nostro territorio diffusa in amministrazioni sia governate dal centro-destra che dal centro-sinistra, che fino ad oggi non hanno disdegnato i risultati e tutt'antratto cambiano probabilmente opinione. Si è voluto interpretare questa delibera dell'ANAC come una conferma dell'impianto accusatorio della Procura di Arezzo, ma in verità questa delibera dell'ANAC delle due la sconfessa in toto perché riporta la questione dal punto di vista tecnico-giuridico e nella sede amministrativistica, ovvero la valutazione della posizione del soggetto e la valutazione di quello che faceva nell'ente. Da questo punto di vista l'ANAC chiarisce che la prima nomina di Francesco Macri era assolutamente valida perché pur essendo lui un ex consigliere comunale non aveva nessun tipo di capacità e potere gestorio nella sua figura di presidente. L'ANAC infatti censura, diciamo così, dando un'interpretazione che almeno io non condivido, censura la conferma del 2017 e del 2020. Cos'è che non condivido, per esempio, che non condividiamo come Fratelli d'Italia di questa pronuncia? La considerazione del soggetto come sotto controllo pubblico di Estra. Non condividiamo, per esempio, il fatto che da questo si possa quindi far discendere il fatto che un soggetto che prima apparteneva quindi a un consesso elettivo poi venga bloccato nelle sue nomine. Chiaramente il commento del PD appare un commento fatto frettolosamente sulla prima notizia apparsa senza assolutamente leggere il provvedimento come altrettanto è parso il commento di un esponente, diciamo così, di centrodestra che ha espresso, pur essendo un soggetto qualificato dal punto di vista giuridico ma anche esso pare aver, diciamo così, espresso una valutazione improvvida e frettolosa che magari avrebbe anche per il ruolo ricoperto richiesto prima la lettura del provvedimento.